Ciao ragazzi, sono Martina di Dining Series e la mia prima domanda è legata al giorno del debutto di questa serie, quindi San Valentino, che è una festa notoriamente riconosciuta con un'accezione un po' negativa, ma che ad esempio a me piace per passare il tempo con chiunque, amici, fidanzati, fidanzate, parenti, animali, quello che vogliamo e vorrei sapere voi cosa pensate di questo giorno anche in relazione al fatto che Fedeltà uscirà proprio il 14 febbraio. Sì, per me sarà la prima volta che festeggio questo giorno, perché è una festa che ho mai sentito con particolare calore, però mi fa piacere, mi ha fatto molto simpatia che Netflix abbia scelto questa data per la nostra uscita, non so, l'ho trovata una cosa molto ironica e fondamentalmente dai, un giorno in cui celebrare l'amore, come dicevi tu, per gli amici, gli amanti, no? Perché no? No, è una scelta diabolica e geniale, perché non tradisce la giornata di San Valentino, cioè non tradisce la festa degli innamorati, perché comunque parliamo di due innamorati, è la storia di due innamorati e quindi rientra nel rispetto di questa data, però la guarda da un'altra prospettiva, cioè nel senso che mi piace pensare che i primi a guardarla saranno sicuramente quelli che avranno interrotto le proprie storie e che in questo giorno, in questo San Valentino, le coppie, quelle ancora che stanno insieme, andranno a cena magari, le non più coppie vedranno fedeltà, ne parleranno, le coppie si incuriosiranno e la vedranno magari qualche giorno dopo San Valentino. Ah, c'è proprio tutto un film? No, lo so, io me lo so fatto questo film, e tutto viene rimescolato. Bene, parlando di vostri personaggi vorrei sapere se ci sono stati dei momenti durante il vostro viaggio con loro in cui vi siete un po' trovati a litigare con Carlo, con Margherita, a scontrarvi magari con qualche loro scelta un po' controversa, com'è stato il vostro rapporto con loro? Sì, fa questo. Diciamo che sì, io ho dovuto fare diversi passi per arrivare a sentire e a comprendere certe scelte di Margherita, probabilmente lei ha avuto un modo di interagire con determinate cose, da un lato in apparente equilibrio, dall'altro una tempesta senza fine che forse personalmente avrei di sicuro reagito in modo diverso, ma è anche il nostro lavoro, quello di riuscire ad attingere a qualcosa di personale, le nostre esperienze, il nostro sentire, per poi fare dei passi verso la storia, invece che magari si allontana da noi è anche il bello, declinare quello che ci succede in un modo completamente diverso. Chi sarei io se avessi fatto quella determinata scelta oggi? Probabilmente sarei una donna come Margherita, magari se mi fossi sottratta a determinate cose, non lo so. Adesso la racconta così, però era incazzata nera quando dovevamo girare certe cose che doveva fare Margherita e diceva, ma com'è possibile? Non è possibile, io non la farei mai, però riguarda più lei. Per quanto riguarda me l'ultima parte, diciamo Carlo comincia a fare una serie di stupidaggini che definiscono poi anche il perimetro dell'uomo messo alle strette, anche in buona parte patetico davanti a certe azioni o reazioni. Come ultima domanda mi vorrei chiedere come vi sentite all'idea che questa serie arriverà in così tanti paesi del mondo, all'idea che qualcuno vi doppierà, qualcuno vi guarderà in doppiati o che ancora qualcuno vi guarderà in lingua originale ma proprio da un paese straniero? È una gran figata secondo me, cioè il fatto del doppiaggio sinceramente mi fa sempre molto ridere quando mi rivedo. Il mio doppiaggio preferito è solitamente il francese, vengo molto bene il francese, non so tu. Quindi attendo questa... è elettrizzante, no? Cioè pensare che ti vedano in così tanti paesi che è anche un po' spaventoso, da un lato. Ma sì, ma sarà curioso anche vedere dove, in quale paese sarà più visto, no? Perché poi magari questa roba riserva certe sorprese, non so, magari in Colombia, sai? Ma che è l'esempio? Con una tradizione... Sul tradimento di Cipanone? No, sulle telenovela si sa di Instagram. Sì.